Che cosa hai fatto? Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia, grazie a te! Mamma! Oggi facciamo uno scherzo che non è definibile perché non è uno scherzo cattivo non è uno scherzo super cattivo è uno scherzo stra-mega cattivo quindi io lo sto facendo ragazzi perché in alcuni video che vi avevo chiesto 20.000 like li avete superati quindi mi raccomando quando volete dei video speciali sotto questo video dovete lasciare 20.000 like nessuna mamma io spera maltrattata in questo video e nessuna Graziana Ios soprattutto praticamente abbiamo scotch e sacco nero dove solitamente si mettono quelle persone che quindi oggi io dobbiamo essere un po' limitati con le parole ragazzi perché già questo video sarà particolare quindi faremo un po' di useremo delle parole molto gentili Disney, Disney Channel perché sennò questo video fa una brutta fine io direi che ora prepariamo tutto vado da mamma Ios e tu mi raccomando sistema tutto perché io verrò qua con mamma Ios devi registrarmi ragazzi all'opera sta nascendo la Graziana dell'altro mondo questa è la mole sono troppo grandi questi spalloni e in volo dobbiamo modellare un po' questa qui dovrebbe essere già la testa è anche un po' corto sì che Graziana non è un colosso però è tipo un metro e venti quindi ora dobbiamo un po' cercare di aggiustarlo dopo una mezz'oretta abbondante di lavoro vi presento l'abbiamo fatta Graziana ma in realtà io sono qui beh posso dire che siamo stati molto bravi e la fronte di Graziana penso sia più grande di questa però se ne accorgerà qualcuno spero di no io sono pronto sono carico devo soltanto entrare nella parte il problema è che non mi viene da piangere quindi devo cercare un metodo per farmi piangere ma non mi viene Graziana perché mi hai lasciato no è perché è colpa mia non è neanche così ho dato a mia madre appuntamento in questo parcheggio devo pensare a cose tragiche ce la posso fare ok è qui è qui siamo pronti beh ciao oh ho fatto proprio non stai bene? oh ma questi capiscono qualche cosa cioè è un mese che stai così che è successo beh? no ma fammi la pancia no grazie Anna che è successo? oh Peppe hai litigato? sì scusa ma mi guardi? e dai si risolve sai quante volte litigo io con tuo padre? non si può risolvere oh mi siete lasciati è tornata a casa dai suoi ma no non ti preoccupare no ma non si può risolvere niente ma è troppo potente ciò che ho fatto è tutto il peggio che puoi pensare lo devi moltiplicare per 10 dai avete fatto una litigata potente dai giù non ti preoccupare dai tutto si risolve vedrai la chiamo io? anche se non mi voglio intromettere nei fatti vostri non puoi chiamarla ma non puoi sarà tornata a casa? sta là e andiamo oh ma stai piangendo su tutto si risolve tu devi imparare una cosa solo alla morte non c'è soluzione quindi per favore andiamo? io ho fatto una cosa che la dovevo fare c'è un'altra che cosa hai combinato? eh ma allora se non c'è un'altra risolve mamma non si può risolvere niente non si può risolvere niente forse non è chiaro non si può risolvere niente oh o te li prendi oggi o veramente? perché le ho detto per favore mi cucini la pasta che la sai farei tu meglio no non la voglio fare non la voglio fare mi hai preso la pentola e me l'ho buttata addosso per una pentola per una pasta mi hai preso il nervoso ho preso la pentola mi hai scasfato in testa fortissimo fortissimo proprio boom cioè sei andato a terra capito non sei svegliata più intanto tu che cosa fai con la padellata? scemo no mamma tu non hai capito non reagiva più io ho provato a fare qualsiasi cosa e la stessa c***a a terra capito? che dici? mannaggia la miseria mannaggia chiama vedi? chi ti deve rispondere? oh intanto ti calmi eh con queste s**tate dove lo metto il telefono questa che non risponde? non ti risponde nessuna ti calmi? ti calmi? litighi così forte semplicemente mamma non è che litigo forte stavo nervoso ti devi calmare raccontami per bene tanto non ci creda le tue s**tate e allora vai vai ci battene questa è una delle tue guardami è una delle tue ma vedi tu che io stavo facendo i fatti miei vengo qua questo cretino dimmi quale è il problema? ma per c***a? non ci credo neanche se lo vedo cioè proprio dovrei vedere una pozza di arcobalini per crederci sentiamo va bene mamma vattene io non sapevo che c***o fare l'ho presa l'ho messa nel terreno dietro casa non sapevo che fare sto là ok andiamo mi fai vedere? tu pensi che io posso chiedere una cosa del genere sul mio mamma non l'ho fatta apposta io ti sto dicendo che sta a casa nel terreno sta a casa nel terreno che sta facendo a coltivare i fiori nel terreno? dai su mi sono stancata con questi scherzi non ce lo faccio più non sono il tuo zimbello oh mi devi portare voglio vedere andiamo voglio vedere andiamo vediamo vediamo che figura brutta farai però io te l'ho detto eh va bene io mi trovo sul tetto in questo momento e Peppa mi ha mandato un messaggio sta per arrivare a breve qualche minutino io non posso immaginare la povera mamma Ios sono arrivati sono arrivati aiuto che c***o ho fatto? ce lo sto dicendo ehi lasciami mi sto agitando ascolta mi ascolta mi ormai l'ho fatta la c***o mamma tagliati raga si sta agitando tantissimo mi devi aiutare per favore lasami madonna graziano oh lascia stare io l'avevo detto questo scherzo è trattato vattene via mamma vattene via stai ferma non puoi fare una cosa del genere sei un mostro che cosa hai fatto mamma mia mamma mia mamma mia graziano mamma toglieri è pesante mi devi soltanto aiutare a metterlo sotto terra sei pazzo madonna mia ma che cosa ti devo dire genitori che questo madonna mia non può essere vero mi dico che scivolate mi dico che è stato Zeus che ti dico ma che c***o dici Zeus per un piaggio ti posso mi dispiace da morire dopo questo video ci odierà sicuro ci odierà mi servono due favore e poi te ne puoi andare uno questo deve andare sotto non può stare qua dobbiamo prendere e metterlo sotto ma tu sei pazzo non lo devo lasciare qua te lo scordi tanto adesso sta arrivando la polizia e ti denuncio si certo tu sei più anziana prenditi tu la colpa lasciami e dai di che non è stato fatto apposta non mi fai andare a me perché devo passare io qua e fallo tu lasciami è un pazzo Beppe è un pazzo per un anziano ma nonna mia ma nonna mia non ci credo mamma c'è un mostro si risolve c'è un mostro che si piange qui che si piange è risolta no 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 maledetti forse mi non puoi esagerare io l'ho detto voglio lo vedere infatti ti ho detto scendi perché era troppo esagerare forse oggi ti ho detto non lo facciamo ti ho detto non lo facciamo perché io no per favore io sono dove io dico io l'ho detto che era troppo io vi odio lasciatemi stare quando c'è una notizia negativa è bello che poi è uno scherzo quindi poi la notizia è falsa e quindi dovresti essere contenta Graziana ha voluto fare lo scherzo non sei contenta che in realtà era tutta una bugia abbiamo offerto una bella camomilla per farla stare più tranquilla ti sei calmata? mi ci vorrà non una una decina di camomilla dai però fantoccio perfetto cioè abbiamo fatto perfetto perché troppo un 10 al fantoccio ma come ti è venuto? ma perché proprio a me? eri l'unica che vuoi te la cascaccia grazie secondo me io no che mi vendicherò su tutte e due stavolta no non so chi dei due primo prima uno prima l'altro tutti insieme grazie lei l'ha scritto questo video che bugiardo che sei che bugiardo non mi puoi fare questo che bugiardo ragazzi dovete lasciare like amarezza ma proprio non ti chiedo mai niente questa volta considerate lo scherzo dovete arrivare a 30.000 se raga buonanotte tutti quanti 5 con mamma yos 30.000 nei commenti mamma yos dovete scrivere